Buongiorno amici ben svegliati. Buongiorno amici ben svegliati. Buongiorno a Miriel di Verona, Pescantina per la precisione, sono con noi Renzo Sartori, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi, presidente di Miriel e Carla Melchiori, buongiorno, anche a lei Carla, insomma si occupa della direzione dei prodotti e della logistica. Cominciamo proprio da Carla, Carla Melchiori, spieghiamo bene di che cosa vi occupate, io ho detto vendite dirette, però spieghiamo ai nostri amici a casa. Allora, noi commercializziamo sei marchi, il primo si chiama Antesis, è il più vecchio, il marchio storico e si occupa di biancheria intima e moda, tutte curate da una stilista, prodotti esclusivamente in Italia. Antesis. Antesis. L'altro marchio si chiama Amabel, si occupa invece dei prodotti per la casa, in particolare la linea sonno, notte, batterassi, cuscini, coperte e quant'altro. Quindi può essere il detersivo, può essere anche... No, questo Amabel è solo dedicato alla linea sonno, al riposo diciamo, esatto. Poi abbiamo un marchio che si chiama Bioplan e invece si occupa di cosmetici, sono dei cosmetici davvero particolari, tutti a base di acido ialuronico, a basso peso molecolare, è un brevetto europeo. Cosa vuol dire a basso peso molecolare? Ecco, di solito l'acido ialuronico ha delle molecole molto grosse che per attraversare la pelle hanno bisogno di essere iniettate con una siringa, invece con il basso peso molecolare la crema può penetrare fino al quinto strato. Ecco, altri marchi? Altri marchi abbiamo Amabel, invece che si occupa del make-up anche se è solo all'inizio, non è ancora una linea completa e poi abbiamo Anemos, invece, Anemos in greco significa vento ed è il vento del pulito, si occupa di detersivi per la casa, per i piatti, per diciamo tutti i detersivi, sono dei detersivi particolari studiati proprio per noi, analergici, concentrati che rispettano la natura. Ho dimenticato un marchio. Hai dimenticato la Fenice. Sentiamo Renzo, Renzo Sartori, allora qual è questo marchio? Hai dimenticato la Fenice. Fenice è un marchio che si occupa del benessere della persona, sia per quanto riguarda un prodotto indossato, quindi una fibra che emette raggi infrarossi attraverso la bioceramica e che quindi dà benessere aiutando ad eliminare le scorie dell'organismo e soprattutto a sfiammare anche le parti infiammate. Tutto questo Renzo, Renzo Sartori, è venduto attraverso delle consulenti, dei consulenti e delle consulenti dirette, con vendita diretta. Esatto, diciamo che la novità di Mirial non è che una cosa conosciuta da ormai più di 40 anni in Italia, sono le vendite dirette ma soprattutto la presentazione a casa di una signora, quindi una presentazione fra amiche dove la consulente spiega il prodotto, fa in modo che la cliente ragioni e sappia cosa compra in modo tale da ottenere un risultato che poi dà benefici sia alla cliente sia alla consulente. Certo, ed è un'opportunità anche di lavoro, quindi se qualcuno da casa, amica o amico ci sta seguendo, perché anche per gli uomini è indifferente, no? Certo, diciamo che questa svolta di avere sei tipologie di prodotto, addirittura alcuni sono quasi esclusivamente riservati a un pubblico maschile perché il sistema sonno in fondo è più difficoltoso e quindi di solito riesce meglio un uomo su questi aspetti. Se qualcuno ci segue da casa e volesse proporsi per lavorare con voi può farlo? Sì, può farlo, ci sarà il numero di telefono dell'azienda piuttosto che il sito in modo tale da poter ricevere tutte le informazioni possibili. In realtà noi stiamo proprio cercando di arrivare alla copertura del territorio nazionale perché come diceva lei prima è un lavoro vero e proprio soprattutto per capogruppo e direttori di zona. Bene, grazie allora a Miriel, Renzo Sartori, grazie Renzo per essere stato con noi e Carla, Carla Melchiori. Grazie anche a Carla per essere stata con noi. Renzo e Carla, due protagonisti, marito e moglie anche possiamo dirlo, oltre che socio in questa avventura. Questa intervista Miriel la potete rivedere in streaming, on demand, su tutti i nostri siti internet, sugli smartphone e sui tablet e sulle smart tv Samsung. Domani mattina invece ci vediamo con degli altri amici sempre alle 7 sul canale 160 del digitale terrestre nazionale per iniziare la giornata in pole position.